Lo porto dentro Io giro l'Italia per te Fratelli Nerazzurri e amici di Facebook, YouTube e Instagram Buongiorno a tutti ragazzi Un saluto a tutti gli iscritti al canale E buon lunedì 29 luglio 29 luglio ragazzi Intanto vi dico che tra qualche giorno partiranno i video dal mare Quindi vi siete abituati a Che poi magari per molti Che rottura di coglioni Però i video durano tanto Perché poi ti inizi a parlare Insomma ogni due giorni fai un video E di cosa ce ne sono da dire Quindi saranno molto più corti Perché lì ora che carichi un video Quindi torneremo per circa un mese A fare video dai 3-5 minuti Sia sulle notizie Sia su quello che poi sarà Perché poi inizierà anche il campionato Le prime partite le vedremo dal mare Quindi questa è una cosa che già vi anticipo Perché chi mi segue da anni lo sa Per chi è nuovo magari non lo sa Ma che cazzo Ecco il problema di connessione Detto questo ragazzi Nel weekend Perché adesso parleremo di Inter Las Palmas Perché io faccio sempre poi un video Dopo la partita Abbiamo fatto una live con Stefanotto Quindi se è riuscito a farla Se non l'avete vista durante la partita L'abbiamo commentata insieme Soprattutto il primo tempo Che è stato un po' più divertente Secondo tempo Mamma mia da sonno Parti due azioni alla fine Ma detto questo Quindi Se volete c'è la live E poi questa splendida intro Ragazzi è la intro Della nuova sigla del canale Che ho Ci ho lavorato Gli ultimi dieci giorni È lì bella L'ho caricata ieri Andate a vedere La nuova sigla del canale Anno 24 25 Per la nuova stagione E abbiamo aggiornato i trofei Ne abbiamo aggiunti altri due Però è cambiata tutta la sigla È cambiata la musica È cambiato tutto Soprattutto le immagini Insomma andate a vedere Si ripercorre il tutto Sette trofei in quattro anni E abbiamo detto Tutto quello che c'era da dire In pre Allora ragazzi Inter Las Palmas Non mi voglio arrabbiare Non mi voglio incazzare Però Però Io mi ricordo Che l'anno scorso Io mi ricordo Perché non c'è mai Una via di mezzo L'interista Oh 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 O si era trista Oh oh Però bisogna sempre capire Un attimino Il tipo di partita E tutto Anch'io mi sono esaltato Per delle giocate di Zeninsky Anch'io sono contento Che Taremi Veda la porta E sto dicendo Mi sta accendendo la miccia L'avevo chiesto Mi devi accendere la miccia Con la maglia dell'Inter E sta segnando Va bene Però la minchia Da lì Ah beh beh ne passa Perché poi Questi qua saranno i primi Che come sbagliano i due ragazzi Gli daranno contro Io voglio ricordare Che l'anno scorso Mi sono sfogato Più di una volta Contro chi rompeva il cazzo Il Tico Sturam L'anno prima Una partita Un diluvio della madonna La gente aveva da rompere il cazzo A Zommer Perché sto vedendo Gente che è vero Che Taremi Adesso parliamo di Taremi E prego di Zirisky Che io sono contentissimo Di Zirisky Taremi lo devo capire bene Ho visto dei gol nel Porto E' un altro campionato Ho detto Qui in Italia E' un'altra cosa Ma la qualità Il giocatore ce l'ha Ci mancherebbe E lo sto già facendo vedere Questo è il lato positivo Sto vedendo già le critiche Al Pepo Al Pepo Martinez Eh ma sbaglio il passaggio Sì ma che cazzo Di uscite ha fatto Un tiro in porta Che paratona ha fatto Prova sempre anche La giocata di prima E' nuovo Con una difesa Che non è la sua Perché la difesa Adesso è assolutamente Improvvisata Ci può stare Anche Zommer Ha sbagliato qualche passaggio Anche Onana Sbagliava qualche passaggio Ma iniziare già A rompere i coglioni Al Pepo Martinez E quindi vedo ste cose Io ogni estate Che uno dovrebbe Io la commento Mi sono piaciute Diverse cose Del primo tempo Dell'altra sera L'avversario era Appena appena più Rispetto agli altri Però Cioè valutiamo Tante cose Ragazzi Ma io più che valutare Questo Valuto Quello che vedo Quello che leggo Ho gente Che si esalta E poi magari Saranno i primi Che andranno a rompere I coglioni A Taremi A Ziliski Così come l'anno scorso Tutti quelli E io Quante volte L'ho detto Ogni volta che segnava Turam Caccatevi in mano E schiaffeggiatevi Perché gli avete rotto Il cazzo Adesso è facile Fare così Col Tico Sturam Con Giacone L'anno prima E' sempre così Quindi Ziliski Ziliski Ha fatto vedere Delle ottime Giocate Ma delle belle Giocate Ma La classe di Ziliski Non è che La cosa Che mi è piaciuta Molto E che Sembra già Che gioca Da tanto In quel centrocampo Perché gli ho visto Fare dei movimenti Delle azioni Delle ripartenze Però è anche vero Che l'avversario Ragazzi Concedeva veramente Paracchi spazi Ziliski Che è forte A me piace Io lo adoro C'è anche il tiro Lo vedo Adesso magari Un po' appesantito Perché comunque Cioè fisicamente Ziliski Deve riuscire a fare Quello che chiede Inzaghi Cosa fanno i centrocampisti Dell'Inter Sono bravissime a offendere Ma devono essere bravissime A tornare Tutti Tutti Quindi Ziliski Che Non è Capito Cioè Non ha giocato Sempre così Deve Deve fare quella roba lì E Poi devi vedere Valutare con chi Con squadre Che non ti concedono Quegli spazi Così come Taremi Taremi Oltre al bel gol Oltre al rigore Che si è procurato Ha avuto tante altre occasioni Anche dove poteva andare Magari Perché lasciavano Concedevano gli spazi Ragazzi Quindi Bisogna un attimino Anche soppesare le cose Io sono contentissimo Se Taremi insegna E poi continua A dare continuità In campagna Io quello che sto Vedendo Quello che sto vedendo L'ho detto Dalla prima amichevole Con Lugano Che li hai vinto In rimonta E l'anno scorso Andavi sotto E li vincevi in rimonta E ho detto Cazzo Questa squadra Ha fame Mi sta dimostrando Nel precampionato Che ha una bella fame Dopo Istanbul E me lo sta dimostrando E me lo sta dimostrando Ancora Comunque Nonostante Il grandioso Scudetto Vedo una squadra Che entra in campo Certo Chiaro Adesso con i carichi di lavoro Ti durano Tre quarti d'ora Siamo durati Perché poi Secondo tempo Poi per l'amor di Dio Sono entrati A Cerbi Blocco italiano E poi è venuto fuori Il bellissimo gol di Dimash Però le azioni belle Le cose belle Le hai viste nel primo tempo Mi ha fatto piacere Ad esempio Io sto guardando Di più Addirittura i giovani Ragazzi L'ultimo video L'ho fatto sui giovani Dopo ho parlato Di Zirischi E Taremi Fontana Rosa Fontana Rosa Che io ho detto Ma questo non mi dispiace Qualcuno mi ha detto No ma no Non hai Pidi buoni Magari non hai Pidi buoni Ma ho fatto un cazzo Di colpo di tacco In un'area di rigore A smarcare Mkhitaryan Che la mette dietro E Taremi fa gol Quindi Fontana Rosa Sta continuando A bene impressionarmi In quel ruolo lì Perché si dice Bisogna cercare Il sostituto Il sostituto ce l'hai già Sposti Carlo Si tiene lui Come vice bastoni Finché non rientra Buchanan Senza andare a spendere soldi Magari i soldi Li investo Cazzo sulla punta Di sì che ho bisogno Adesso dicono Che è rientrato Arnautovic Ma Arnautovic Adesso si vede Un Taremi Che comunque è preciso Purga E' uno che la porta La vede Ma soprattutto mi piace Non è tanto i gol Che fa I movimenti che fa Come gioca per la squadra Cioè quello che mi fa Veramente piacere Perché quando vedo Il Tuku Entrare Che entra Con quell'atteggiamento Oppure Arnautovic Che prima di Carburare un attimo Lui entra e fa Ehi ciao Sono tutto io Perché Sempre quello E poi l'atteggiamento Mi dà il cazzo Questo si sbatte E questa Per il momento E' un'ottima terza punta Io vorrei vedere L'Inter Adesso Andare Visto che stiamo andando via Satriano Visto che forse Agume va via Con un po' di tesoretto Andare a investire E ad acchiappare Anche lì L'esterno Ma piuttosto Darmian Lo uso Per far rifiatare Darmian Matteone Che me lo mettono Sempre come Riserva di Dunfriss Sì Può farlo ogni tanto Ma non ce la fa più Può far rifiatare Come braccetto O Pavard O Bissec Ma lo stesso Bissec Lo dico dall'anno scorso Ma non servo io Per dirlo Lo vedi Quando cazzo parte Può benissimo Fare il ruolo Di Dunfriss Anche lui Quindi I Danè E sì Chiaramente Il centrale di difesa Manca quello Però lì bisogna investire Un po' di più Io sto parlando di questi ruoli Dove in realtà Tu ce l'avresti già Senza andare a spendere Per investire Dovevi avere quattro punte Bisogna avere quattro punte Con i controcazzi Per tutte le partite Che ci sono Perché lo ripeto L'ho detto il video scorso Ci è andata bene Che ai due davanti Non gli è venuto un cazzo Non gli è venuto Giusto Lautaro Gli è venuto qualcosina Ma qualcosina È stato fuori dieci giorni Più o meno Ok Quindi ottimo Che ci sia un Taremi così E vedremo se Se l'Inter farà Però La gente che adesso Lo sta pompando Lo sta esaltando Io sono convinto Che la prima cazzata Romperei i coglioni A Taremi E così viceversa Adesso il Pepo Martinez L'anno scorso Me lo ricordo benissimo Ma mi sfogai di brutto Ero Da quanti cazzo No era un po' di giorni Perché Sommar Era arrivato alla fine Ma ero lì In riva al mare Ero incazzato Non posso Adesso poi tutti Lo hanno zannato E quanti clinici t'ha fatto Sommar Fenomeni E quindi Non c'è mai Una via di mezzo Cioè io lo vedo così Fontana Rosa Kamate Avresti anche Kamate Eventualmente Se non vuoi fare Il Bissec Provolone Bissec Avresti anche Kamate Che sta dimostrando Buone cose Non abbiamo visto Topalovic Un ottimo Miki 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 Italian Super in palla Veramente Stratosferico Fratesi Fratesino Quei gol li devi fare Se vuoi giocare di più Già quei gol li devi fare Normale Poi Raga Lo so benissimo Io almeno Me ne chiava neanche un cazzo Che la Juve ha perso 3-0 Io ho fatto dei video Non me ne chiava un cazzo Perché comunque Quelli È vero È vero Il Norimberga È vero È serie B È vero Che tre pere Sono tre pere Ma quelli Adesso tra 5 giorni Iniziano il campionato La Juve Aveva iniziato Da una settimana Ho visto gente Per culare Prendere per il culo Cioè Così come non mi esalto Per l'Inter Ma non mi viene Oppure ho visto Dei milanisti Esaltati Per il 3-2 Con il Manchester City Ecco Quello mi ha ricordato Un po' Quando ci esaltavamo Noi Anni e anni Anni fa Staremo a vedere Però insomma Io non ho visto Della Juve Del Milan No Non so neanche Chi ha giocato Però ripeto Come calcio estivo Per l'Inter E lo dico Cerco di prendere Spunta Le cose belle Quali sono La fame Che la vedi Finché ti regge La pompa Perché insomma Ne abbiamo ancora Di strada da fare Per entrare Nella forma giusta Anche perché Stanno arrivando poi A spizziche bocconi Un po' alla volta Quindi la fame E la cosa Che anche Cristiano Aslani Che tanti Emo Aslani Il cazzo Aslani Qua lo si è difeso Dal primo giorno E più gioca E più fa meglio E più entra In convinzione Stava facendo Un euro goal Quella punizione lì A farla Tirarla così In quel modo E farla abbassare In quel modo Sta facendo un euro goal Nell'angolino Quindi Poi vabbè Nick Barella Quando è entrato Mi è piaciuto Dimash Ottimo il gol Il briscola Abbiamo rivisto A Cerbone A Cerbone Che è subito Entrato a combattere Quindi Queste sono le cose Positive Ricominciare a vedere Un attimino Tutti che rientrano Che Se si alza il livello Comunque Il primo tempo Qualcosa si è visto Ci siamo anche divertiti Correa ragazzi Veramente I primi 25 minuti Ha sbagliato tutto 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 Non solo le giocate Ma anche solo il pensiero Di quella giocata Era già sbagliata Perché anche se aveva Come il suo solito Allo spazio No Vai contro l'uomo Ce n'è uno di uomo No Vado dove ce ne ho due I tiri rimpallati Poi cos'è che Che fa E poi ha fatto un tiro Che si è centrato E gli ha fatto fare La parata centrale Plastica Allora Basta Stop Finito Correa Sì c'era un rigore Su Correa Va bene Però io non posso Vedere quell'atteggiamento Io non posso Vedere quell'atteggiamento Giochi nell'Inter Piuttosto un ragazzino Con il sangue agli occhi Che se la suda Ok Per quello dico Comunque Karnatovic Per tutti gli atteggiamenti Che ha Meglio di Correa Comunque è meglio Secondo me Perché almeno Va a combattere Questo invece Quando può Si nasconde Anche Mi da Primo anno L'ho difeso Ma dopo Basta Perché cioè La maglia è la maglia Tu non puoi entrare così Ogni tanto Fa la giocatina E così Ma la cosa Che gli dice il cervello Che se c'è lo spazio Deve andare Dove c'è l'uomo Io non la capirò mai Sta cosa Quindi Stiamo a vedere Cosa succede Nel reparto Nel reparto D'attacco Ragazzi Topalovic Non ce l'ha fatto vedere Il mister E' entrato l'altro ragazzo Che è un'ottima Mezzala Sbrinsbrung Come chezzo si chiama Carlos Augusto Carlos Augusto Grabe la partita Sta salendo Sta salendo Carlos Mi è piaciuto Mi è piaciuto parecchio E Basta ragazzi Basta Poi in difesa Si a Goumè Ma tanto adesso Sembra che Se ne vada A Siviglia Chi c'era A destra Bissec Provolone Bissec Provolone Bissec Ragazzi Quando l'Inter Ha preso Bissec Andate a vedere I video di un anno fa Che la gente Rompere il cazzo E io dicevo Ragazzi Ma scusate Sette zucche Eh ma lo paghiamo Che cazzo me ne frega Come lo paga Sette zucche E capitano Della nazionale Under 21 tedesca I video sono lì Non sarà un pirla Questo qua Adesso tutti Che osannano Bissec Perché questo è Io ogni estate Vedo sta roba E non mi voglio incazzare Però avete rotto il cazzo Cioè Cioè una via di mezzo Una via di mezzo No niente Oh 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 Si fustiga Hai capito Poverino il Pepo Martinez Non è che stanno a guardare Minchia Finalmente uno che esce Ha fatto belle uscite Anche Sia due basse E una a mezza altezza Che c'è andato Al limite dell'area piccola Questo è le cose Che dovete vedere Che può sbagliare un passaggio Va a fanculo Che non ha neanche La sua squadra davanti Quella che dovrebbe avere Voglio vedere Quando poi ci avrà Cialanoglu E tutto il resto Che gli vanno incontro Se sbaglia o meno Poi dagli tempo Adesso è Però Però è un gran bel portiere E ripeto Topalovic Io spero che Che lo tenga in qualche modo Come settimo Visto che manda via Gumetti Tini Tito Topalovic come settimo Perché tanta roba Basta ragazzi Questo è il mio video Quindi Interlas Palmas Questo è Si è visto qualcosa in più Rispetto Alla partita precedente E Ripeto Ottimo Ottime cose Da Zirisky Adesso voglio solo capire Poi quando Con ritmi Forsennati In partite Dovrà fare la doppia fase E lì Secondo me Deve lavorare tanto Deve lavorare perché A classe Alla testa Alla giocata di prima Ha fatto due giocate di prima Spettacolari proprio Come veramente Se giocassero tanto Nell'Inter Però Il centrocampo di Inzaghi Richiede tanta corsa Lo sanno tutti Lo sanno Fra tesi Che ogni volta È il più cazzato di tutti Perché Perché gioca poco E quindi Non è collaudato Come gli altri Capito Quindi Questo è E Taremi Oltre ai gol Che va benissimo Mi piacciono veramente I movimenti che fa Sono curioso di vederlo A fianco A un Turama A un Lautaro Capito Sono curioso di questo Sono curioso Questo Vorrei vederlo Non a fianco a Correa Perché non Boh Secondo me Secondo me Può ancora migliorare Chi gioca a fianco a Lautaro Chi gioca a fianco a Lautaro Gioca da Dio Ragazzi Sarà un caso Quindi Sarei curioso di vederlo A fianco a Lautaro Quando andrò a sostituire Magari il Tikus Per farlo rifiatare O viceversa Taremi Turam Che cazzo è Cioè E vediamo 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 se arriva Questa quarta punta Ragazzi Però È una bella Inter Mi piace Mi sta piacendo Ma mi piace soprattutto La testa La testa Perché quest'anno Ce l'abbiamo noi Dobbiamo difenderlo Va difeso Condivisione dei video Che sui canale È sempre Forza Inter Attivate la campanella E fate un bel passaparola Ciao